Buonasera, sono il menestrello, sarò anche il cameriere e questi sono i protagonisti della cena canonica, attori, musicisti, ospiti, in un contesto dove citazioni storiche letterarie offriranno il fianco ad attimi di comicità e riflessione, sullo sfondo Pantagruel e citando Rabelais, qui non si troverà né male né infezione, meglio è di risa che di pianto scrivere, che rider soprattutto è cosa umana. Garçon, prego il menu, come antipasto lo chef ci propone, Kikettine anacardi con raisin di papaya, corona di gallo, reale dell'aio, aggadiri in tomate con pipettine noisette e rimesciate caridi ed omelette. Le rimesciate sono deboli, mangiate alla sera, le pipettine non di certo, siamo mica in galera, la raisin di papaya, mi spira un tantino, ma la corona di gallo, mi piace un casino, grazie a tutti, grazie a tutti. E il tacchino cantò tre volte e poi si nascose sotto il cerpuglio. La mattina seguente cantò solo due volte e poi si nascose sotto il cerpuglio, ma il terzo giorno non cantò e non si nascose. Ecco, cosa ci insegna questa bella parabola? Niente, ma anche il tacchino sente l'avvento del Natale. Oh oui, je chante, je chante, la chasse. Ghiaccio. Ghiaccio per terra. Ghiaccio per terra, sì. Ghiaccio per terra, sì. Ghiaccio per terra. Ribadisco, ghiaccio per terra. Bisogna gettare ghiaia. Ghiaccio per terra. Il foo camp e la chasse. Gettate ghiaia, no? Il foo camp e la chasse. Bisogna gettare ghiaia. Il foo camp e la chasse. E lo ripeto, ghiaia. Il foo camp e la chasse. Ghiaia. Per terra. E dormi l'aria. Per terra, il mare. Il foo c'amè le cantoniere. Bisogna vedere se è repereibile. Il foo c'amè le cantoniere. Ah, il cantoniere, sì. Le cantoniere. Il cantoniere. E la donna disse all'uomo, guarda quante stelle ci sono nel cielo. E l'uomo rispose, sì. Tu, tu sei la mia stella, la più grande e la più bella. Tu sei la mia costellazione. Ecco, cosa ci insegna questa bella parabola? Che sono tante le costellazioni del cielo. Ecco, però proprio scegliere l'orsa maggiore, ecco, non è che, per carità, va a gusti, ma... Attenzione. Sì. Attenzione bene. Ma come fai a cantare se non ce l'ha? E non so. Banana. Non lo sappiamo. Va bene. Ma come fai, come fai, come fai? Senza la banana non si può cantare, no. Non ce la fai, non ce la fai. E come fai a cantare se non ce l'ha? Donna. Bravo. Va bene. Tutto. Come fai, come fai, come fai? Senza la donna non si può cantare, no. Non ce la fai, non ce la fai, no. Ma come fai a cantare se non ce la fai, non ce la fai. Ma come fai a cantare? Non so. È proprio bello. Grazie a tutti.